La vicenda di Stefano Cucchi fa registrare una presa di posizione durissima del Presidente del Senato, Grasso, che dice Il nostro paese non può sopportare una violenza brutale come quella avvenuta nel 2009, soprattutto se arriva da istituzioni che dovevano avere maggiori responsabilità. Chissà o tacce in questo momento deve parlare. Intanto la Procura Generale di Roma ha fatto sapere che dopo che verranno messe in evidenza le motivazioni della sentenza, ricorrerà in Cassazione.